Dopo un incontro di lavoro importante, Defcon 1 concentrato, compresso e al tuo top. Hai un'oretta di tempo prima del treno, puoi andare in stazione, puoi sederti sulle banchine, puoi girare per la città sudando, umida, molto molto interrushal in zona stazione, oppure puoi... allungare le gambe, verti una birra anche a macchiarti un po', ghiaccia che ti spacca i denti, fronte stazione, vedo la stazione, posso quasi leggere il tabellone, 55 minuti, sono visto male, la vita, si può vivere bene, basta sapere da vivere, bene per te, è una volta stanchizzata le merce, meglio essere stanchi che essere rilassati senza 5 minuti, ma qua ha zerto, con rispetto, sto a giocare, meglio zerto e c'è cochei, che snaus, snaus e la Ferrari, via la live.